trimestrali vicinissime e s&p 500 che sostenuto principalmente soltanto da una manciata di titoli buongiorno a tutti qui è vincenzo penna di investire.biz e questa è il caffè e mercati la consuleta rubrica della mattina dove facciamo il punto della situazione sui mercati finanziari sia dal punto di vista macroeconomico scusate se mi avvicino un po troppo ma vedete che cosa succede qui purtroppo a malta c'è ancora il sole fortissimo quindi finché non cambiamo l'ora avremo questo problema però nulla di che quindi mi sposterei proprio sul sul calendario economico non c'è nulla da di particolare da vedere oggi per quanto riguarda la giornata di lunedì 16 ottobre però gli eventi della settimana da tenere in considerazione sono ovviamente questi che vedete quindi ci sarà l'inflazione in gran bretagna inflazione nell'eurozona finalmente avremo l'inflazione media nell'eurozona è in attesa in forte decrescita 4 3 per cento al 5 e 2 vedremo se questa cosa verrà confermata oppure no e ovviamente il giovedì il consuleta appuntamento sui jobless claims quindi questo è quanto per la settimana la settimana attuale quindi settimana abbastanza tranquilla visto una settimana abbastanza tranquilla ci tenevamo ad essere sempre sul pezzo e infatti ci sono due appuntamenti imperdibili uno tra tutti e quello appunto del webinar del lunedì facciamo sempre che facciamo sempre alle ore 18 l'evento è totalmente gratuito quindi potete andare tranquillamente sul sito anzi vi lascio anche il link qui sotto in descrizione cliccate iscriviti e ovviamente lasciate i vostri dati e ci vediamo stasera ci saranno luca e riccardo ci saranno ben tre sorprese ad attendervi una delle quali anzi due delle quali includono anche voi quindi ci sarà un'attività se avete letto i nostri social su telegram sapete già di cosa si tratta e perché partirà di nuovo la shark week ovviamente se volete sapere come e partecipare vi iscrivete tranquillamente qui al webinar di stasera un altro evento molto importante che vi invito al quale invito a prendere visione sarà la scalping live con giancarlo scalping live che ci sarà il 17 il 26 e il primo novembre durante la riunione della fed della fed quindi durante il funk attesissima alta volatilità se volete risparmiare prendete il pacchetto 3 per 2 e una praticamente è in omaggio quella proprio con durante la riunione della fed quindi mi raccomando andate a vedere un po di cose se avete di dubbio ovviamente ci contattate tramite la chat che trovate qui in basso quindi molto molto semplicemente allora che cosa volevo far vedere volevo far vedere che l'SMP questo è un grafico che rappresenta l'SMP o meglio le magnifiche le magnifiche 7 sono state chiamate quindi le top 7 aziende che compongono l'SMP quanta diciamo con quanta percentuale impattano su tutto l'indice e vedete che siamo a livelli del 29 e 6 per cento quindi siamo vicinissimi al 30 per cento significa che soltanto queste 7 aziende muovono il 30 per cento dell'indice che ovviamente quando questa cosa accade non è mai una buona cosa perché si sta dando diciamo il potere di far muovere l'indice soltanto a poche a poche lette ovviamente queste 7 sapete tutti quali sono fatte vedere qui sono apple microsoft amazon nvidia alfabet cioè google meta e tesla queste aziende hanno il potere di muovere l'intero SMP quindi che cosa significa che se anche soltanto una di queste aziende va male andrà male tutto il resto dell'indice come infatti come infatti vi ho mostrato da questo grafico all'inizio del 2023 ci troviamo praticamente ai bottom di mercato e infatti questo 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 ratio è sceso al 20 per cento quindi facciamo molta attenzione perché almeno per il momento tutti i rialzi e ovviamente anche i ribassi dell'SMP sono gestiti totalmente o meglio per la maggior parte del del paniere parliamo quasi del 30 per cento da queste magnifiche sette quindi facciamo molta attenzione perché tra pochissimo ci sono le trimestrali proprio di queste aziende e ovviamente qualora andassero male ci sarebbero ripercursioni gravi anche sul resto dell'SMP e anche sul sul nasdaq perché poi il rapporto ancora fa ancora più paura per quanto riguarda il nasdaq lì parliamo di cifre quasi del del 40 per cento e ovviamente si muoverà molto molto di più allora di cosa volevo parlarvi oggi oggi volevo parlarvi di un paio di cose nel innanzitutto volevo riprendere la nostra operazione sul nasdaq in short vi ricordo che siamo entrati nella sul livello di 15.230 15.229 all'incirca lo stop loss lo avevamo a 15.400 e abbiamo già raggiunto il primo target quindi complimenti a chi ha seguito questa questa operazione è andata già in profitto diciamo al primo target dei 15.000 che anzi addirittura è andata leggermente più sotto quindi adesso che cosa facciamo si può chiudere magari metà della posizione e mettere lo stop loss in pareggio quindi molto semplicemente la possiamo gestire in questo modo operazione su euro dollaro è andata male però ce l'aspettavamo era un'operazione ad alto rischio come avevo detto a livello diciamo di di ottica intra dei infatti eravamo entrati bene sulla soglia dei di 1 0 5 e 3 il problema è stato che il nostro primo target non è stato preso praticamente per 5 7 7 punti quindi va bene comunque così per chi è stato più conservativo magari si è accontentato di questa ventina di punti io ho preso lo stop loss e va bene così capita ogni tanto ci può stare anche euro chf è andata abbastanza male infatti abbiamo siamo andati stop sul sul cambio sul cross valutario euro chf e da qui in avanti valuteremo il da farsi non mi piace particolarmente la candela del di venerdì candela effettivamente molto ribassista di quasi 80 punti dall'apertura alla chiusura quindi staremo a vedere è molto raro che possiamo rientrare in posizione però non si sa mai noi la torniamo sott'occhio soprattutto perché mercoledì come vi dicevo prima ci sono dei dati molto interessanti quindi per l'operazione di oggi invece volevo segnalarvi il gas natural gas perché molto interessante il livello che sta testando adesso con il livello di 3 e 40 qualora questo livello dovesse essere rotto con forza a ribasso potrei valutare delle operazioni short da queste parti il primo ingresso lo farei in area 3 e 40 e 48 e il secondo ingresso lo farei in area in area 5 in area 3 e 53 quindi il doppio sarà un'operazione di doppio ingresso ovviamente dopo la rottura voglio un retest proprio in quest'area altrimenti semplicemente non entro stop loss da mettere a 3 e 64 se volete essere conservativi se volete essere leggermente più aggressivi da mettere a 3 e 58 e il target ma i target primo target a 3 e 39 secondo a 3 e 20 fate molto attenzione sul gas perché ci sarà alta volatilità proprio causato dalla guerra in medio oriente perché quando ci sono questa tipologia di avvenimenti si si cerca di speculare il più possibile sulle materie prime come gas e petrolio quindi fate molta attenzione ci potrebbe essere alta volatilità però noi ovviamente staremo a vedere che potremmo avere tutte le conferme del caso prima di entrare in posizione quindi questo questo è quanto io molto brevemente vi ricordo di mettere like iscrivervi al canale attivare la campanella e recuperarvi le ultime live che abbiamo fatto speciale inflazione speciale report jp morgan perché sono molto molto interessanti e nulla commentate fatemi ovviamente sapere come sempre io vi auguro una buona giornata un buon inizio settimana ci vediamo stasera al webinar del lunedì ciao